Nella sala veranda della birreria Piedavena si è tenuta la presentazione ufficiale dell'edizione 2024 della Dolomiti Beer Trail, manifestazione che si svolgerà sabato 30 marzo e che ha fatto già registrare il tutto esaurito. L'anno scorso 1.200 partenti sembrava un traguardo molto importante, quest'anno abbiamo finalmente raggiunto anche il 1.400, avremo ai nastri di partenza atleti rappresentanti 17 nazioni e molti di questi sono atleti a livello mondiale molto elevato. Alle 8 di sabato 30 marzo prenderanno il via agli atleti della Ultra, 55 km con 3.000 m di dislivello positivo. A seguire alle 8.30 sarà la volta del trail, 24 km e 1.400 m di dislivello. Infine alle 9 partiranno i partecipanti al tour, 12 km e 700 di dislivello. Una manifestazione questa che apre le porte ad un calendario ricco di eventi sportivi per il comune di Piedavena e il territorio feltrino. Siamo molto fieri non solo come amministrazione ma anche come territorio, come comune di Piedavena di poter annoverare sia la partenza che l'arrivo di questa manifestazione importantissima e ce lo dicono i numeri che si svolge proprio qui. È l'occasione di apertura di un momento, di una stagione ricca di eventi sportivi per cui io non posso che invitarvi ad essere numerosissimi sabato alla Dolomiti Beer Trail, ad ammirare le nostre bellezze, il nostro territorio per poi tornare anche nei successivi eventi sportivi.